Gloria a Dio, gloria a Gesù, alleluia Spirito di Dio, Adonai al Shaddai, Signore t'adoriamo, ti innalziamo, oh re dei re, oh, alleluia, 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 Gesù, oh gloria al Signore, voglio dirti che ti amo, oh, alleluia, Voglio dirti che ti adoro, oh, alleluia, Spirito Santo, sei il mio Salvatore, oh, alleluia, Shaddai, Signore eterno, per te, la mia vita solo per te, alleluia, E io innalzo il tuo nome, gloria, 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 Sura la vaga, ridando regna in me, oh, alleluia, 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 gloria a te, Signore t'adoro, ti ringrazio, ti do la gloria, alleluia, 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 voglio dirti che ti amo, Gesù, ti adoriamo, ti amiamo, alleluia, Voglio dirti che ti adoro, Spirito Santo, sei il mio Salvatore, adoriamo il re dei re, adoriamo Cristo, alleluia, Per te, oh, alleluia, la mia vita solo per te, sì, Signore, e io innalzo il tuo nome, Gridando regna in me, amè, gridando regna in me, alleluia, alleluia, oh, alleluia, 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 gloria, 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 gloria. Alleluia 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 Signore della gloria Signore tu sei buono Tu sei vivente Tu sei reale Gesù Alleluia ti ringraziamo mio Dio grazie Per la tua infinita volontà Per la tua benedità La tua presenza Signore grazie per questa grande salvezza Aiutaci ad andare avanti A essere fedeli a te Signore Alziamo le mani a Cristo Ti dà nuove forze il Signore Alzo le mani a te Signore Anche se non ho forze A Gesù mi dà forza Alzo le mani O a te Anche se ho mille problemi A Gesù è la risposta Quando ho alto le mani Comincio a sentire Un'anzio Che mi fa cantare Il forco dello Spirito Santo Il forco dello Spirito Santo Io mi alzo le mani Alzo le mani a te Signore Alzo le mani a te Signore Quando ho alto le mani a te Signore Comincio a sentire Il forco dello Spirito Santo 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 Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando io alzo le mani. Alleluia, sì Signore, soffia in me, soffia in me, soffia in me, Spirito Santo. Soffia in me, Spirito Santo, soffia in me, Spirito Santo, alleluia, soffia in me, alleluia. Oh Signore ti ringraziamo, diamo tutta la gloria a te Padre, ama Padre per tutti i tuoi benefici. Signore continua a riempire il nostro cuore, continua a rinnovare ogni fratello, ogni sorella, a fare meraviglii. Tu sei il Dio meraviglioso. Alleluia, adoro il Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Si ha dato il tuo nome. Per i secoli dei secoli, canta il Signore. Per i secoli dei secoli. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Si ha dato il nome. Signore, grazie. Per i secoli dei secoli. Alleluia, alleluia. Omnipotente Dio Omnipotente Dio Omnipotente Dio L'anima mia n'erate Omnipotente Dio Omnipotente Dio Ringrazio Signore Omnipotente Dio Omnipotente Dio L'anima mia n'erate Omnipotente Dio L'anima mia n'erate L'anima mia n'erate Per i secoli dei secoli Omnipotente Dio Omnipotente Dio Omnipotente Dio L'anima mia n'erate Omnipotente Dio Omnipotente Dio Omnipotente Dio Omnipotente Dio L'anima mia n'erate Guarda, guarda verso il Signore E mi trovo la grazia Oh, la presenza di Dio qui E su di noi E in mezzo a noi Lo Spirito Santo si muove E opera con potenza da Lui Se lo credi Dai gloria a Dio Dai gloria a Dio Dai gloria a Dio Perché Egli è qui Dai gloria a Dio Omnipotente Dio Omnipotente Dio Omnipotente Dio L'anima mia n'erate Omnipotente Dio Grazie, re della gloria Continua a operare Stendi la tua mano, padre Alleluia 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 Spirito dell'Eterno Alleluia Alleluia C'è potenza Adora, adora il Re Alleluia Oh, alleluia Spirito Santo Spirito Santo Oh, padre Ti ringraziamo ancora In questa giornata Siamo qui per adorarti Signore Per glorificarti Ringraziarti Inalzare il tuo nome Oh, velesciaramai Perché Alleluia Tu sei buono, padre Continua a purificare I nostri cuori Da un'iscoria Con il sangue Dell'agnello Ti ringrazio Per quel sangue prezioso Che è stato versato Alla croce del Calvario Signore Ti ringrazio Oh, alleluia Per ogni cosa Signore Ma soprattutto Per la tua presenza Che è Il bene più prezioso Signore Senza la tua presenza Non si può vivere Non si può andare avanti È la tua presenza Signore Alleluia Nel nome di Gesù Noi Noi vogliamo Dio mio Essere di quelli Che cercano Il tuo regno La tua giustizia La tua faccia Signore Giorno per giorno Aiutaci a essere Più fedeli a te Più consacrati Più vigorosi Nello spirito Rafforza Tutti i fratelli Le sorelle Quelli che stanno Pregando Quelli che ascolteranno Più tardi Signore Benedici I tuoi figli I tuoi figli In ogni luogo Benedici Ogni sorella Ogni fratello Che ascolta La tua parola Qui su internet Padre Benedici tutti I fratelli Le sorelle In Cristo Padre Del gruppo Di Whatsapp Solo Cristo Salva Inondali Le loro famiglie Le loro case Dali vittoria In ogni situazione Nel nome di Gesù Ungi I nostri capi con olio Fai traboccare La nostra coppa Accendi La lampada Padre In ogni cuore Siamo qui Per la tua misericordia Fai sì Padre Che possiamo Andare avanti Essere più uniti Nello spirito Essere più uniti Nella fede Nella verità Alleluia Portaci avanti Di valore in valore Per la fede Signore Una volta insegnata Ai seguaci Del tuo figliolo Gesù Cristo Vogliamo camminare In quella fede Autentica Antica Veritiera Alleluia Signore Vogliamo rafforzare Nella parola Nella sana dottrina Rinnovani Fratello Rinnova Alleluia Manda una pioggia Di spirito santo Su tutti i fratelli Le sorelle Le loro case Le loro famiglie I loro figli Togli via Padre Per la tua gloria Per la tua gloria Prendere questa patente Prendere questa patente Per la tua gloria Padre gloria Solo a te Adonai 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 I fratelli che pregono I fratelli che pregono I fratelli che pregono I fratelli che pregono Facci guardare solo a te Alleluia 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 E'vi Prendere questa patente Comeario Con la tua gloria Cristo A tuber La tua gloria E'vi In nome che pari un paio E tu odori Che è Gesù In nome che pari un paio Alla dolce Presenza tua Il nome tuo santo adodiare Alla dolce Presenza tua Signor diamo gloria al Signore Canta con tutto il cuore Vidi il tuo nome Gesù Alla dolce Vidi il tuo cuore Gesù Il tuo cuore Che pari un paio Il tuo cuore Gesù Il tuo cuore Gesù Il tuo cuore Il tuo cuore Il tuo cuore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Spirito Santo, mi riempi fratelli e sorelle con la tua presenza. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti. E lotarti, oh Dio, una cosa chiesto a te, Signor, e quella cercherò, che ti mori nella casa tua. Per sempre cerco benedità e benedità, grazie Padre. Poi davanti a me la mensa tu preparerai e con l'odio tuo munterai ed io ti aboccherò. E per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore. A dar le mani nella casa, e nel nome tuo cuore. Questo è tutto della vita mia, nostro bene è che io non sovelo, che amare te, servire te. Grazie Padre, ti adoriamo Gesù, ti adoriamo il Dio della gloria. Oh, alleluia, alleluia, la ragione della vita è amare te, vogliamo amarti ogni giorno di più, adorarti e servirti. Signore della gloria, e lotarti, oh Dio, una cosa chiesto a te, Signor, e quella cercherò, che io ti mori nella casa tua per sempre. Certo bene mi guidarai e benennità, poi davanti a me la mensa tu preparerai e con l'odio tuo munterai ed io ti aboccherò. E per lunghi giorni nella casa tua, amare te, servire te, Signore. A dar le mani nella casa tua, amare te, signore. A dar le mani nella casa, e l'odio tuo munterai ed io ti aboccherò. A dar le mani nella casa tua, amare te, servire te, signore. A dar le mani nella casa tua, amare te, servire te, signore. Altro bene io non troverò. Altro bene io non troverò. Che amare te, che amare te, servire te, signore. Servire te, signore. Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo, signore, alleluia. Signore per la tua grazia che ogni giorno Dio d'amore ci sostiene, ci porta avanti, ci guida. Alleluia nei tuoi sentieri. Padre manda ancora quella pioggia gloriosa dello Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Ungi tutti i fratelli, ungi tutte le sorelle, ungi coloro che ascoltano, padre. Signore perché la tua parola è fonte di vita, è fonte di guarigione, fonte di potenza per andare avanti e combattere la buona battaglia della fede. Facci essere soldati fedeli che non disertano, che non indietreggiano, ma che vanno avanti, alleluia, rivestiti della completa armatura. Signore tua, padre onnipotente, riempi le sorelle, riempi i fratelli di una potente e fresca unzione dal cielo. Signore, noi vogliamo piegare a te i nostri cuori, le nostre ginocchia, la nostra vita, a renderci ancora di più. Ogni cosa per la tua gloria e per i meriti del tuo figliolo, Gesù Cristo, l'unigenito, venuto dal cielo, venuto dal Padre. Signore, grazie, Signore. Tu sei la via, la verità e la vita. Ti ringrazio, Padre d'amore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, amen, amen, amen. Alleluia, Spirito Santo, grazie. Oh, alleluia, grazie, Gesù. Di gloria, inalzato, alleluia e benedetto, Signore. Oh, sei grande, Padre mio, continua a guidarci. Alleluia, alleluia, Spirito Santo. Alleluia, alleluia, Spirito di Dio, amen. Gloria, vogliamo dare gloria ancora, dare gloria a Dio, amen. Alleluia, cantare i canti dell'Eterno. Alleluia, alleluia. Alleluia, dai di primo cielo, ed hai fatto in mano. Il mio creatore mi ha fatto come te. Alleluia, alleluia. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te. E tu amore la casa e del tar. Alleluia, a te, Signore, la mia pregnava. Se il mio cuore scrivere potrai. Alleluia, alleluia, a te, come un profumo. Alleluia, alleluia, adoro te, perché ti sei. Se la mia pregnava, a te, come un profumo. Alleluia, 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 alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Alleluia, 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 gloria, gloria, gloria al tuo nome. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Adoro te perché mi serve, che devi vincere il cielo e dai partiti, mio credoso mi batto come me. Guardo, 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 guarda Cristo alla croce. Guardo, 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 guardo Alleluia! Guardo a Gesù, guardo all'acqua, oh c'è l'alleluia, è lì che lì morì, alleluia! Gesù risuscitò per me, e presto tornerà, vittoria ci darà, adora 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 adora! Gesù risuscitò per me, e presto tornerà, in ciel mi porterà, per l'eternità! Quanti danno gloria, orra madavara iscia, irreme kerebei, signore gloria, shera babachita! Innalzati solo tu, a Cristo solo la gloria, a te Gesù Cristo mio Dio, l'onore, ringraziamento, la maestà! Continua a benedire queste riunioni spirituali della tua parola, signore! Queste live, queste adunanze, padre! Continua a riempire tutti i fratelli e le sorelle che ascoltano su Youtube, su Facebook, su Whatsapp! Per la gloria del tuo nome, spezza le catene, libera gli oppressi, sana, guarisce ogni ferita, padre! Faccia andare avanti di valore in valore, di vittoria in vittoria, suonando la tromba in Sion! Alleluia! Nel nome glorioso di Cristo, l'unigenito proceduto dal padre, signore! Io mi umilio, sono polvere, mi metto da parte, opera tu, intervieni, tu parla, tu guida tu ogni cosa! Signore, ancora in questa giornata, intervieni nei bisogni spirituali, consegni, prodigi e miracoli! Alleluia! Ricevi per fede tu che sei lì, prega, dili Gesù, io ricevo da te! Alleluia! Gesù, grazie! Gesù, mi dai la vittoria! Padre, dai nuove forze a quella sorella, dai nuove forze a quel fratello! Signore, e illumina quei cuori, padre, che ancora sono freddi, con il fuoco dello Spirito Santo intervieni, fai opere potenti, guarigioni, liberazioni, santificazioni! Padre, ti preghiamo, ci umiliamo, io mi metto da parte, senza di te non posso fare nulla, sei tu il mio! Alleluia! Benefattore, colui che opera per me, colui che, alleluia, combatte per me, che mi dà la vittoria a Gesù, per il sangue dell'agnello! Cristo vive risuscitato e ritornerà a rapire, a prendere, a prelevare la sua chiesa! Oh, gloria, Signore, inonda i fratelli, inonda le sorelle, inondali di gioia, di Spirito Santo! Oh, gloria! Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito di Dio! Signore, nel nome di Cristo, rispondi alle preghiere nascoste, alle preghiere segrete, rispondi alla fede delle tue figlie, dei tuoi figli, che vedano la tua gloria nei loro familiari, Padre, nei loro bisogni, Cristo Gesù! Opera, Padre! Alleluia! Guidaci come tu vorrai, nel nome di Gesù, benedetto, in eterno, Amen! Amen! A Cristo sia la gloria, l'onore e tutta la lode! Alleluia, alleluia, alleluia! Signore, riempi, riempi il tuo popolo, Spirito Santo, continua a operare, Signore! Alleluia! Pace, carissimi! In Cristo vi saluto, nella pace di Gesù, Amen! Se c'è qualcuno che vorrebbe inalzare una preghiera di ringraziamento, puoi chiamare prima che passiamo alla parola di Dio, Amen! Se c'è qualcuno che, spinto dallo Spirito del Signore, vuole alzare una preghiera, una lode, una testimonianza per la gloria di Dio e la gloria di Gesù, puoi chiamare adesso, prima che passiamo alla lettura, Amen! Oh, sceglierebbe che siamo qui per la gloria di Dio, in diretta, su Facebook, Amen! In questi giorni faremo qui queste riunioni spirituali della parola del Signore, alle 14.30, poi vi dico che, piacendo al Signore, domani sera, venerdì, faremo una riunione speciale dove ognuno di voi potrà condividere un versetto e lo leggeremo, voi lo scriverete su WhatsApp e me lo mandate, poi leggeremo tutti i versetti che manderete per alimentarci della parola e con l'aiuto del Signore, piacendo a Dio, domani sera, che è venerdì, Amen! Io vi do ancora, come già sapete, la buona notizia, che il Signore mi ha dato questa vittoria, Amen! Alleluia! Cristo regna! Alleluia! Oh, gloria al Padre! E io ringrazio Dio, per me è un miracolo, fratelli, io non sapevo niente di come si guidava, neanche accendere la macchina, non mi vergogno a dirlo, non mi aveva mai preso, diciamo, la voglia di fare, di guidare, non mi interessava, però è arrivato il tempo e do gloria a Gesù che mi ha dato la grazia, la capacità, la forza, Amen! Io non avevo mai guidato, soprattutto nelle città della Sicilia, oppure a Napoli, Palermo, Sicilia, non è facile guidare qui, fratelli, perché qua purtroppo pochi rispettano le precedenze, che Dio ci aiuti, Amen! Io voglio essere dei pochi, aiutami Padre, Amen! Aiutaci Gesù! Perciò imparare a guidare in queste città non è facile, fratelli, a Gela non è facile guidare qui, è un po' come a Napoli, ma Gesù ci aiuta! Gesù ci aiuta! Io sto gravando per mandare un gruppo, lo scrivo, ah no, 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 questo è da me, credo, Ssura Baba, scusate carissimi, alleluia, perciò una gloria di Dio, una vittoria! Io non mi vergogno a dirlo, io fino a pochi mesi fa non avevo mai guidato la macchina in città, nel caos, nel traffico che ci sono in queste città, mai! Non sapevo cos'era un parcheggio, mai fatto in vita mia, io vi dico ancora, io neanche sapevo accenderla la macchina, ma Gesù mi ha dato la vittoria! Alleluia, gloria al suo, perché c'è un'opera per l'Evangelo, per predicare, per andare con l'aiuto del Padre, alleluia, pregate per noi ancora, nel nome di Gesù e noi pregheremo per voi, a Dio la gloria! Amen! Alleluia, gloria a Gesù Cristo, sia benedetto il Signore! Se c'è qualche testimonianza, io ho voluto testimoniare ancora perché il Signore è buono, se c'è qualcuno che vuole dare una testimonianza, puoi chiamare, alleluia, per la gloria del Signore! Amen! Abbiamo ancora qualche minuto, vogliamo dare spazio a qualche fratello, sorella, che possano dare una testimonianza per la gloria di Tamasheia dell'Eterno! Amen! Alleluia, gloria a Gesù Cristo, per la gloria dell'Eterno, per la gloria di Dio! Amen! Il Signore ti benedica, sorella Anastasia dalla Puglia! Pace di Gesù! Pace, Dio ti benedica, fratello, per questa patente! Gloria a Dio! Sia benedetto il Signore! Alleluia! E il Dio dei milagri! Sia benedica tutti i fratelli e le sorelle, gloria a Dio! Amen! Fratello, voglio lodare il Signore con un canto, che da stamattina, che lo sto sempre a cantare, il Signore me lo mette nel cuore, e lo voglio condividere con voi, per la gloria di Dio! Amen! Posso? Amén! Certo, fratello! Amen! Certo, sorella, che puoi! Gloria al Dio! Amen! Tutto ciò che respira l'odile Eterno! Amen! Gloria al Gesù! Alleluia! Grazie! Grazie a te, l'abbiamo! Grazie a te, l'abbiamo! Grazie a te, l'abbiamo! Grazie a te, l'abbiamo! Alleluia! Oh, portami all'alto, c'è più volta, Signore! Guidami, Signore! Alleluia! Io ti seguirò! Oh, portami all'alto, c'è più volta, Signore! Solo i sterifù, io avrò! Alleluia! Fammi brillare, Signore! Fammi brillare, Signore! Per te, puro il santo sarò, se tu brilli in me! Fammi brillare, Signore! Fammi brillare, per te, Gesù! Sino al giorno che tu ritornerai, alleluia! Oh, portami all'alto, c'è più volta, Signore! Grazie, Padre! Venedici la sorella, io ti seguirò, inondola di Spirito Santo, la sua famiglia, la sua casa, per la tua gloria, Signore! Sono i sterifù, Giovo, alleluia! Gloria a Dio, alleluia! Alleluia, gloria a Gesù! Dio è degno di l'oggi, alleluia, gloria a Gesù! Alleluia, io lo ringrazio, il mio Signore, con tutto il mio cuore, oggi, non lo so, mi sono svegliata con questo canto e ancora ce l'ho nel cuore, è da stamattina e non riesco, canto gli altri, ma questo in particolare, che il Signore faccia brillare veramente la sua parola in ognuno di noi e veramente che lo Spirito Santo ci riempie della sua presenza, nel nome di Gesù, alleluia! Io vi abbraccio tutti, fratelli e sorelle, il Signore ci benedica e gloria a Dio, che il Signore rimanga con noi in questa riunione, possa benedire te, te lo Stefano, affinché la tua parola sia veramente scritta nella tavola dei nostri cuori, come diceva una sorella mia stamattina, nel nome di Gesù, ci possa veramente portare avanti. Amén! Amén! Pace, pace a tutti, pace a tutti, pace a tutti, pace a Dio, il Dio continua a sostenervi, sorella, te e alla tua famiglia, con grandi vittorie per la gloria del Signore. Amén! Pace, sorella Anastasia! Pace, pace, fratello Stefano, Dio ci benedica, pace! Amén! Amén! Alleluia! Pace! Gloria a Gesù, quanto è buono il Signore, amén! Il nostro Padre Celeste e Re di gloria, amén! Se c'è qualcun altro che vuole dare una testimonianza, potete telefonare, gloria a Dio, oppure se vuoi elevare una preghiera di ringraziamento. Alleluia! Gloria a Shea, Massi, Kelia, Jesus! Se volete elevare una preghiera al Signore, puoi chiamare per lodare, per glorificare il nome del Signore. Amén! Siamo qui in una riunione spirituale in Cristo, poi passeremo alla parola nel libro di Ezechiele, ha scritto un fratello, El Elyon, continua a volgere il tuo sguardo su di noi, amén! El Elyon vuol dire il Dio Altissimo, in ebraico, El Elyon, amén! Il Dio Altissimo, lì Dio Altissimo, è il nostro Dio, amén! Non vi è un altro Dio all'insopra di Lui, no, 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 non esistono altri Dii, gli altri sono idoli, sono false divinità che il Signore le sgridi. Il vero Dio è il nostro Dio, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Amén! Qualcun altro vuole testimoniare? Abbiamo ancora un po' di tempo, alleluia! Wow, alleluia! Cristo vive! Potete telefonare carissimi per dare una testimonianza o un saluto nell'amore del Signore, potete chiamare, siamo qui in questa riunione indiretta, alleluia! Per la gloria del Re, dei Re, il nostro Signore, Gesù Cristo, il Benedetto in Eterno. Alleluia! Spirito Santo, glorioso e potente, Sherebacai! Alleluia! Ti adoro Gesù, continua a ministrare con il fuoco, Spirito dell'Eterno, abbiamo bisogno di Te, Padre d'amore. amén, gloria al vivente, gloria a Gesù, amén, gloria a Dio. Se non c'è nessuno che vuole testimoniare, possiamo passare direttamente alla parola? gloria a Dio, forse da quello che mi sembra, qui su Facebook è meglio fare le dirette alla sera, mi sembra che vedo 22 collegati, senza sottovalutare il numero, noi non contano i numeri, però se ci sono più persone che ascoltano è meglio per la gloria del Signore, per edificare. edificare. Forse alla sera viene meglio qui su Facebook. amén, come ci guiderà lo Spirito Santo. amén, volete testimoniare fratelli o passo alla scrittura? Alleluia! amén, che ci guidi il Signore. o se qualcuno vuole pregare, elevare una voce, una preghiera di vittoria, che equivale a suonare lo shofar, in Sion. Alleluia! Sion è una figura della Chiesa. alleluia! la Chiesa dell'iddio vivente. amén, se c'è qualcuno che vuole testimoniare fratelli, gloria a Gesù, benedici il tuo popolo, Padre, benedici i tuoi figli, le tue figlie, Padre, continua a riempirli di unzione, Padre, a guidare ogni passo, a guidare ogni movimento, alleluia, nella potenza che scende dall'alto. Per la potenza dello Spirito Santo, rivestici, equipaggiaci, armaci delle armi spirituali, Padre, per andare avanti, gloria al tuo nome. Alleluia! Nel nome di Gesù. amén, amén, amén. vogliamo passare alla scrittura? Gloria a Dio, sia benedetto il nome di Gesù vivente, gloria al nome del Signore. Vogliamo leggere, quest'oggi, ancora nel libro di Ezechiele, capitolo 7, continueremo la lettura dal verso 15. Alleluia! Ezechiele 7, verso 15. Alla gloria del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amén. Dice così la parola, di fuori la spada, di dentro la peste e la fame. Chi è nei campi morirà di spada, chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste. amén. Queste parole si riferivano, amati nel Signore, a un imminente giudizio, castigo, sul popolo ribelle. Doveva venire la fame, la peste. Assomiglia un po' ai giorni che stiamo vivendo oggi, ma ti voglio dire, il giudizio non arriverà sulla Chiesa, quanti dicono amén, ma sul mondo ribelle, sui peccatori ribelli, ma purtroppo anche su alcuni che dicono che sono cristiani, ma sono ribelli. Dobbiamo dire anche questo. Perché ci sono alcuni che dicono che sono credenti, ma sono ribelli. Sono doppiamente peccatori, perché loro sono peccatori come uomini mondani, ma sono peccatori anche come cristiani. doppiamente peccatori, perché sono persone che dicono che conoscono Dio, hanno una colpa maggiore, sono doppiamente ribelli, che Dio li liberi, perché anche su di loro cadrà il giudizio. La Bibbia dice che l'ira di Dio cadrà sui figli della disubbidienza. Questa parola di Dio, fratelli, queste sono profezie che in un certo senso valgono anche per i tempi della fine, che perché verranno terribili giudizi nei tempi della grande tribolazione. E come il Signore ci sta facendo dire spesso quando predichiamo fuori, noi siamo alle porte della grande tribolazione. quanti possono dire amèno? Io voglio dire che io, personalmente, in accordo alla Bibbia e a quello che sento in cuore da parte di Dio, io credo che siamo all'inizio della grande tribolazione. lo possiamo dire, fratelli, tutte le cose che stanno succedendo nel mondo, terremoti terribili di gradi altissimi, di intensità altissimi, terremoti in tanti parti della Terra, vulcani, cataclismi, inondazioni, epidemie mondiali, tutte le cose che stanno facendo nel mondo i governi corrotti con tutto ciò che già sapete, per me questi sono segni dell'inizio già della grande tribolazione. Fratelli, non è che chissà che cosa deve arrivare, noi stiamo già vedendo. Non so tu cosa pensi, ma biblicamente parlando, io la penso così, lo inizio a credere. Persecuzione ai cristiani pure, in paesi e, diciamo, dove uccidono i nostri fratelli in Cristo. Perciò, fratelli, vogliamo vegliare le cose che succedono in Israele, ci parlano pure della fine dei tempi. Perciò dobbiamo essere sobri e vigilanti ti avveduti come le cinque vergini che avevano l'olio di scorta. Quanti dicono Amen, Alleluia? Ce l'hai l'olio di scorta? Nel tuo cuore l'olio dell'unzione, l'olio, Alleluia, figura dell'unzione dello Spirito Santo. Amen? Sì, fratelli, noi dobbiamo avere l'olio dell'unzione. Senza olio la tua vita si secca, la tua lampada si prosciuga, la tua anima e il cuore si spengono. Se non c'è l'olio, non c'è la fiamma. E allora è lì che si addormentano le cinque vergini stolte, pazze, dice una traduzione. L'antica Diodati dice le cinque vergini pazze, disavedute. Padre, abbi misericordia, risveglia, risveglia, Alleluia. Cari nella grazia, qui il profeta Ezechiele per mandato di Dio parlava di un giudizio imminente sulla terra di Israele e questo giudizio doveva venire tramite la spada dei nemici. Dio li aveva in poche parole consegnati nelle mani di Nabucodonosor, il re di Babilonia e molti sarebbero stati traffitti dalla spada. Perché? Perché Dio non aveva amore? Perché Dio aveva perso la sua misericordia? No! Ma per colpa loro! Perché la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Questa mattina è uscito questo versetto nell'applicazione della Bibbia. Il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio alleluia è vita eterna in Cristo. Il dono di Dio è la vita eterna. Il dono di Dio è Gesù. La vita eterna aggrappati a Gesù. Chi non si aggrappa a Gesù chi disubidisce chi è ribelle sarà traffitto dalla spada. perché la bocca dell'Eterno ha parlato fratelli e sorelle. Amen? Noi vogliamo essere ubbidienti. Fratelli nel linguaggio biblico nel linguaggio spirituale credere in Gesù non vuol dire solo che tu lo dici con la bocca io credo io credo in Gesù. Ma credere in Gesù vuol dire ubbidire a Gesù camminare con Cristo seguirlo credere in Gesù vuol dire che tu ubbidisci al Signore che tu vivi per Lui puoi dire ancora che credi in Gesù oppure così così che Dio sgridi fratelli noi dobbiamo amare Gesù vivere per Gesù ubbidire a Cristo il Signore se no verrà la spada la peste e la fame e queste saranno le piaghe i castighi che verranno sul mondo intero su questa umanità adultera e peccatrice su questa società corrotta e perversa peggio di Sodoma e Gomorra peggio di Babilonia peggio dell'Egitto verrà fratelli l'ira del Dio vivente in Apocalisse dice che verrà un tempo che gli uomini preferiranno morire che vedere le terribili sofferenze che verranno su di loro e diranno ai monti cadeteci addosso ma la morte fuggirà da loro perché dovranno soffrire saranno castigati per quello che si chiama grande tribolazione ma la Chiesa in quell'epoca terribile sarà già stata prelevata Gesù ci preleverà ci tirerà fuori vi do un esempio terreno scusatemi come quando uno va lì allo sportello del bancomat e preleva i suoi soldi li tira fuori perché a volte nelle banche non sai cosa succede poi li perdi tutti li prelevi così Cristo perché noi siamo il suo tesoro particolare dice la Bibbia lui ci preleverà Shama Iachea alleluia quanti credono dicono Maranata Cristo ritorna alleluia lui ci prenderà lui ci alleluia afferrerà oh gloria al Signore ma tu devi essere pronto mia moglie deve essere pronta io devo essere pronto non basta dire con la bocca se io credo io credo poi dov'è il tuo cuore dov'è la tua mente cosa fai con il corpo fumi ti ubriachi vivi nell'immorazione mortalità misericordia così ci sono tanti evangelici oggi che sono più peccatori di quelli di fuori convivenza adulterio paganesimo festeggiano il Natale il Capodanno vedo pochi amena adesso alleluia pietà Signore festeggiano le feste pagane e poi dicono alleluia ma quale alleluia tu ti devi riconvertire quella alleluia che esce fuori da un cuore pieno di peccato quella alleluia non serve a niente devi riconvertirti oggi ci sono evangelici fratelli che Dio abbia misericordia io sono un evangelico in Cristo però un evangelico vero per grazia di Dio non perché io sono bravo ma per la grazia la potenza di Dio che mi sostiene ma oggi ci sono evangelici di nome soltanto fasulli carnali mondani che gli piace guardare i film sono idolatri del pallone delle partite pure donne evangeliche che sono amanti delle telenovelas dei sceneggiati dove promuovono l'adulterio Hollywood e tutte ste robacce qui che l'Eterno liberi quanti dicono gloria al Signore o sei con Cristo o sei con il diavolo se no verranno i giudizi le piaghe la peste la fame come dice qui questa è parola di Dio noi lo dobbiamo ancora predicare dobbiamo consacrarci il cielo è per i santi per entrare in cielo dobbiamo essere santi sulla terra non è che sulla terra sei un peccatore un carnale una peccatrice una mondana e poi in cielo vuoi avere le vesti bianche no non ti ingannare sgrida il Satana di Gesù liberami alleluia dalla doppia vita dalla doppia identità dal doppio carattere io voglio essere un vero cristiano un vero figlio di Dio una vera donna di Dio amén come puoi essere una vera donna di Dio tutta truccata attilata scollata che ti abbassi a prendere qualcosa si vedono i seni fuori abbi pietà padre sgrida al diavolo amascia non so se ti piacerà ancora la predicazione mai surimatarababai mascia ma qua dobbiamo predicare la sana dottrina di Gesù Cristo amén e questo vale anche per i maschi devi stare attento fratello anche tu a non mettere in mostra il tuo corpo che sei muscoloso che sei bello ti fai Italia la moda che il Signore sgridi occhialini neri da sole e poi dici io sono un servo di Dio c'hai le magliette fino qua così tutte le braccia di fuori convertiti a Gesù te lo dico nell'amore di Dio io sono un servo inutile ma te lo devo dire con amore per Gesù alleluia gloria a Dio perché è tempo di consacrarsi come puoi dire sei un servo del Signore e vai in giro con tutti quei jeans strappati quei jeans attillati quei jeans provocanti per le donne che cammini e si vede la forma del tuo fondo schiena ma per favore convertiti a Cristo sii santo amén vestiti in un modo degno del servo di Dio dell'ambasciatore di Cristo di un uomo che ha timore dell'Eterno alleluia chi ha orecchi da udire oda queste cose non si predicano nelle chiese ecco perché qui il Signore ci guida amén mi dici che sei un servo del Signore e vai in piscina tutte le settimane con le mondane con i mondani vai in palestra ma ti sta ingannando da solo Satana ti ha sedotto risvegliati caro uomo e anche tu cara donna che vai dall'estetista vai a farti le piastre vai a farti le sopracciglie sgridiamo al diavolo spendi cento euro la settimana per farti i capelli no serviamo Dio in novità di vita non so quanti resteranno in linea adesso mio Dio ma è una battaglia che Gesù ha già vinto è una battaglia ma Gesù ha vinto rallegrati non ti rattristare per queste prediche queste prediche sono un balsamo sono una guarigione una liberazione perché la Bibbia dice che per entrare in cielo noi dobbiamo procacciare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore nessuno nemmeno i pastori i profeti i grandi evangelisti a livello mondiale ma se non c'è santità nessuno vedrà il Signore amèn dobbiamo santificarci siate santi perché io sono santo dice lì Dio nostro amèn questo c'è bisogno oggi perché Cristo è alle porte Signore aiutaci gloria a Dio Cristo è alle porte sorella vestiti in un modo degno dell'Evangelo in un modo sobrio amèn in un modo da onorare l'Eterno sorella cara non mettiti quegli stivali lunghi col tacco alto e poi ti metti i pantaloni stretti secondo te una serva di Dio va bene che si vesta così poi c'è la magliettina attilata pure e si vede quasi tutto di stai attenta sorella donna di Dio ti voglio bene nell'amore di Gesù ti amo nell'amore di Gesù insieme mia moglie ti ama ma noi te lo dobbiamo dire visto che oggi tanti non lo dicono gloria a Dio che qua c'è qualcuno per grazia di Dio che il Signore lo spinge a dirlo amén quanti dicono amén alleluia Signore Santo fai sì che tutti dicano amén Padre alleluia gloria Signore ti adoro alleluia per la Tua gloria perciò perciò tornando qui alla profezia carissimi amén tornando alla profezia il profeta Ezechiele servo dell'Eterno fu ispirato dallo Spirito di Dio per parlare del giudizio che doveva venire sotto forma della spada di Babilonia poi la peste e la fame la peste sembra quello che sta succedendo oggi nel mondo l'epidemia la pandemia non so come la chiamano coronavirus eccetera eccetera sono tempi di giudizi fratelli questo è un preludio della grande tribolazione paesi che soffrono la fame come mai prima andate a vedere certe notizie come in certi paesi che alcuni anni fa erano ricchi adesso c'è la fame come il Venezuela il Venezuela era un paese ricco pieno di petrolio dove tanti migranti italiani pure andavano lì sapete in Venezuela negli anni 60 ora c'è la povertà che loro i soldi non servono più a niente e li buttano via perché il soldo la moneta velezzolana ha perso il valore non c'è più da mangiare le persone immigrano verso gli Stati Uniti a piedi dal Venezuela negli Stati Uniti ci sono un esodo di persone cose mai viste prima fratello come quei rifugiati che vengono dai paesi dell'Afghanistan del Pakistan folle migliaia di persone che camminano a piedi 3.000 4.000 chilometri arrivano in Europa cose mai viste sono segni della fine pure apriamo gli occhi alleluia eccetera eccetera cari nel Signore tanti segni della fine alleluia dobbiamo capire c'è la fame e probabilmente anche in certi paesi anche qui dell'Europa arriverà la crisi perché nei quattro cavalieri dell'Apocalisse parla anche di questo carestia fame faranno code lunghissime per prendere cibi tutto quello che stiamo vedendo nel mondo è un preludio un avvertimento una preparazione della grande tribolazione oppure anche un inizio che Dio ci aiuti a capire i tempi e le stagioni che stiamo vivendo per essere saldi nel Signore Amen Alleluia che Dio ci aiuti la peste c'è già nel mondo che il Signore ci guidi ad andare avanti fratelli a consacrarci a vivere per lo spirito di Dio a camminare nell'unzione a camminare alleluia gloria a te Gesù nella via stretta nell'ubidienza nell'amore nella pace nel perdono nel perdono gli uni verso gli altri e per la gloria del nostro Dio fortificaci Signore per servirlo evangelizzare testimoniare alleluia 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 gloria a Dio alleluia e l'istruttore che era seduto a fianco a me ha detto vedi Stefano che Gesù ti ha aiutato sì gli ho detto sì ma ha aiutato il Signore perché io ho fede in Gesù Amen alleluia e dietro c'era la donna la esaminatrice dell'esame della guida ha detto preghi anche per me sa preghi anche per me io ho detto creda in Gesù anche lei in questi tempi difficili Gesù è l'unica speranza poi mi ha fatto firmare il foglio mi ha dato la patente gloria a Cristo quando sono uscito dalla macchina prima di andare via avevo in tasca un nuovo testamento ho preso un volantino della parola di Gesù e l'ho detto tenga cara Signora lega un messaggio della parola del Signore creda in Gesù ho detto grazie grazie preghi per me creda nel Signore Dio ha aperto il cuore di quella donna Amen alleluia Spirito Santo a Cristo sia la gloria alleluia gloria al suo nome Signore ti adoro a te l'onore e la maestà tu sei buono Padre noi eravamo indegni ma tu hai avuto pietà di noi tramite Gesù Cristo alleluia meraviglioso meraviglioso perciò fratelli consacriamoci Amen consacriamoci sempre più Amen gloria Gesù Cristo consacriamoci consacriamoci a Gesù amati nella grazia perché il Signore ritorna Amen rimaniamo saldi e fermi nello spirito del Dio nostro Adonai Yahshua El Shaddai alleluia gloria al Signore e parla di Lui non temere parla 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 perché l'Onnipotente sarà con te l'Onnipotente ti darà vittoria l'Onnipotente alleluia abbatterà i muri le fortezze del diavolo Cristo il leone della tribù di Giuda il risorto va davanti a te non temere ma confida in Gesù alleluia santo è il suo nome Amen vogliamo andare avanti qui nella lettura Ezechiele 7 dice ancora alleluia gloria a Dio Amen Ezechiele 7 al verso 16 dice Amen quelli alleluia di loro che riusciranno a scampare staranno su per i monti come le colombe delle valli tutti quanti gemendo ognuno per la propria iniquità vedete quelli che scamperanno non riusciranno a nascondersi per i monti come disse Gesù Amen che alcuni sarebbero fuggiti verso i monti della Giudea perché verrà un tempo che l'anticristo vorrà perseguitare quelli che crederanno in Gesù oppure alcuni che si ravvederanno dopo l'anticristo li vorrà perseguitare e si dovranno nascondere nei monti alleluia gloria a Dio benedetto il nome del Signore perciò noi dobbiamo fratelli e sorelle prepararci giorno per giorno per la venuta del Signore perché Gesù verrà all'improvviso lui non ti manderà un sms prima ma tu devi stare vigilando siate pronti dice il Signore perché non sapete nel giorno nell'ora che il figlio dell'uomo ritornerà alleluia vogliamo alleluia essere pronti Signore facci essere pronti come si fa essere pronti avere un cuore puro una mente spirituale un corpo che si consacra perché il corpo il Tempio di Dio il cuore la mente il corpo deve essere trovato irreprensibile dice in prima tessalonicesi 5 se non vado errato verso 23 l'intero vostro essere spirito anima e corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore e dice che il Dio Dio della pace vi santifichi egli stesso amén amén fratelli irreprensibile senza macchie senza ruga senza contaminazione è possibile se Gesù l'ha detto è possibile è lui ci dà l'aiuto è lui che ci dà il potere la forza alleluia Cristo vive amén alleluia andiamo avanti dice al verso 17 tutte le mani diverranno fiacche tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua vedete questi sono i giudizi le mani diventeranno fiacche le ginocchia si scioglieranno vedete la terra l'umanità i ribelli qui parla i ribelli non alla Chiesa perché noi avremo corpi di gloria quanti dicono amén le nostre ginocchia non si scioglieranno come acqua perché noi saremo in cielo e piegheremo le ginocchia davanti al trono dell'Onnipotente ma qui parla dei ribelli della casa ribelle del popolo ribelle qui parla dei quelli che non erano pronti verranno angosce terribili fratelli dice addirittura in un passo che quando verrà quella battaglia terribile di Armageddon gli occhi si scioglieranno nelle orbite degli uomini la loro lingua si scioglierà il corpo si scioglierà perché loro vorranno andare a attaccare Gerusalemme ma Dio il re della gloria il Signore Gesù scenderà dal cielo alleluia su un cavallo bianco con potenza con potenza e gloria e tutti i suoi santi saremo con lui su cavalli bianchi e vedremo la sconfitta dell'anticristo e verrà una sciagura terribile su questa terra ribelle alleluia alleluia spirito santo ma dice la Bibbia che noi che crediamo in Cristo che siamo di Cristo noi non siamo stati destinati a ira ma ottenere salvezza per la grazia del Signore ma sull'umanità ribelle verranno cose terribili leggete in Apocalisse verranno delle grandini gigantesche dal cielo che bombarderanno la terra saranno grandini di 30 chili l'uno immaginate voi che già a volte in questi tempi sono cadute delle grandini che erano come delle palline da tennis e hanno fatto dei danni terribili nei raccolti nei campi hanno distrutto tutto le macchine i tetti delle macchine di certe case pure grandini come palline di tennis ma queste che verranno più avanti saranno come dei macigni di 30 chili l'uno sarà terribile fratello per questo che gli uomini non vorranno neanche più vivere sotto quelle sofferenze piaghe saliranno dagli abissi demoni angeli decaduti terribili satanici a tormentare gli uomini verranno ulcere terribili la lingua degli uomini brucerà verrà un caldo che gli uomini bruceranno in piedi il mare sarà trasformato in sangue terremoti mondiali che la terza parte delle città corrolleranno fratelli quello che verrà è terribile ma la chiesa sarà già con Cristo nella gloria del suo regno perciò siamo fedeli a lui fratelli vale la pena soffrire per Cristo vale la pena ubidirli camminare con lui vale la pena a volte essere chissà scherniti ma cosa ce ne importa per noi è una gioia soffrire per l'Evangelo se ci dicono pazzi voi siete stupidi ci dicono di tutto perché siamo seguaci di Cristo noi diciamo sì alleluia c'hai ragione io sono di Cristo vado con Cristo alleluia alleluia hai detto bene sì sono pazzo di Gesù ma io vado in cielo tu dove andrai pentiti pecatore amén gloria a Dio e perdoniamo quelle persone abbiamo un cuore pulito fratelli alleluia che il Signore ci dia la grazia ma tu non devi rinegare Cristo perché hai paura che ti offendano o che ti rifiutino o ti chiudano le porte no non negare Cristo va al meglio soffrire per il Signore che avere i benefici del mondo che Satana ti vuole dare i benefici del mondo vengono dal diavolo che tu neghi Cristo e poi c'hai tutti gli amici tutti ti applaudono c'hai tutte le cose che il mondo ti dava tutto bene ma è un inganno di Satana è meglio soffrire con Gesù e avere la vita eterna alleluia risvegliati caro che ascolti non dare retta al maligno ma chiedi a Gesù di scacciarlo se tu non hai la forza di scacciare al diavolo nel nome di Gesù chiedi a Gesù di scacciarlo e Gesù scaccialo via Signore potenza di Dio il Signore a te la gloria Gesù ma non rinnegare Cristo perché chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini io lo rinnegherò io lo rinnegherò davanti al Padre mio ma chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini dice il Signore Gesù io lo riconoscerò davanti al Padre mio e agli angeli eletti amè questo è quello che conta fratelli alleluia alleluia aiutaci a perseverare fino alla fine ad amarti fino alla fine come diceva quell'inno che abbiamo cantato guardate il verso 18 dice alleluia si vestiranno di sacchi lo spavento servirà loro di copertura di coperta la vergogna sarà su tutti i volti avranno tutti il capo rasato verrà una distruzione sulla terra una vergogna un'angoscia sui popoli una delusione ma sarà troppo tardi per loro sapete perché loro chi non avrà creduto nel figlio di Dio e si sarà fatto mettere il marchio della bestia e adoreranno l'immagine della bestia non ci sarà più speranza per loro non ci sarà più ravvedimento non ci sarà più uscita perciò rimaniamo attaccati a Gesù rimaniamo attaccati a Gesù e vi ripeto per l'ennesima volta tutte le cose che stanno facendo nel mondo i governi mondiali che dietro c'è il diavolo lo spirito dell'anticristo uomini posseduti massoni illuminati gente che hanno patto con il diavolo peccatori ribelli tutto quello che stanno facendo con le punture i pass le robe che stanno facendo che voi sapete è una preparazione per il governo della bestia per il marchio e per tutto ciò che verrà perciò non fatevi ingannare non vendere la tua primogenitura per un piatto di lenticchie amèn non vendere la tua salvezza non rinnegare Cristo per una proposta economica finanziaria di benessere passeggero no si fedele a Cristo alleluia non vendere la verità la Bibbia dice acquista la verità e non la vendere amèn rimaniamo saldi nelle vie dell'Eterno nelle vie di Gesù nelle vie dell'Evangelo di Cristo Gesù è la via la verità e la vita se tu ancora non hai messo il tuo cuore nelle mani di Dio non hai ancora ricevuto Cristo non lo hai ancora e alleluia confessato come tuo Signore Salvatore non ti sei ancora ravveduto pentito convertito ora è il tempo chiedi perdono al Signore Lui entrerà nel tuo cuore entrerà nella tua vita entrerà nella tua anima entrerà nella tua famiglia alleluia 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 Gesù vuole cancellare i tuoi peccati Gesù vuole cancellare il tuo peccato l'iniquità alleluia i tuoi errori umiliati dice la Bibbia umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio ed Egli vi inalzerà sapete cosa vuol dire inalzerà vi tirerà su vi porterà in alto gloria a Dio diffondi questo messaggio ai tuoi vicini ai tuoi tra virgolette amici di Facebook ai tuoi parenti mettilo nel tuo Facebook non avere paura non rinegare Cristo perché se hai paura di mettere queste predicazioni della parola del Signore tu lo stai rinnegando non devi avere paura amèn per cosa c'hai Facebook per mettere le foto quando vai in pizzeria per mettere le foto quando vai in spiaggia per mettere due battute due barzellette ma che Dio sgridi metti la parola di Gesù Cristo alleluia e tu avrai una ricompensa dal Signore servilo combatti la battaglia spirituale sii coraggioso suonalo shofar in Sion non avere paura no che poi mi vedrà la predica il mio datore di lavoro allora tu rineghi Cristo non rinegare Cristo il datore di lavoro mica ti dà la vita eterna lui è un pecatore ti dà lo stipendio anzi addirittura certi datori di lavoro fanno fatica anche a dare lo stipendio sapete conosco persone che il datore di lavoro li deve dare ancora tre quattro mesi arretrati di lavoro di stipendio e tu c'hai paura che ti veda la predica ma per favore non disonorare Dio di amen alleluia alleluia dai gloria a Dio dai gloria a Gesù cosa c'è ancora paura è il diavolo che deve avere paura tu sei una donna di Dio un uomo di Dio amen tu devi onorare Gesù Cristo alleluia gloria a Dio vogliamo andare avanti qualche minuto fratelli alleluia a Dio la gloria grazie padre verso 19 dice getteranno il loro argento per le strade vedete che non serviranno più i soldi l'argento che avranno verrà una sofferenza terribile che gli uomini getteranno via l'argento le ricchezze e tutto vedranno che era inutile ma sarà tardi per loro getteranno il loro argento per le strade il loro oro sarà per immondizia sarà per essi immondizia il loro argento e il loro oro non li potranno salvare nel giorno del furore del Signore non potranno saziare la loro fame nel riempire le loro viscere perché furono quelli l'intoppo che li fece cadere nella loro iniquità vedete queste persone non avranno più speranza perché loro avevano fatto delle cose materiali il loro idolo e verrà un giorno che l'oro l'argento loro lo butteranno via sarà come immondizia e non potranno saziarsi moriranno nel giudizio perché loro non avevano il Dio del cielo rinegarono il Dio del cielo offendevano il Dio del cielo e il male che loro fecero ricadrà loro addosso se c'è qualcuno che mi ascolta che vive lontano da Dio non seguire più quella strada quella via larga conduce alla perdizione la via del mondo del materialismo dei piaceri falsi carnali porta alla morte non camminare più fermati dice il Signore e riconosci che io sono l'Eterno il mio nome sarà innalzato tra le nazioni riconosci il Signore Cristo alleluia Gesù il re della gloria come tuo salvatore e come tuo Signore e sottometti la tua vita a lui ubidiscilo cammina nelle sue vie e tu avrai una casa nei cieli tu avrai un'abitazione nei cieli tu vedrai la gloria di Dio il tempo è vicino ravedetevi e credete all'Evangelo seguite Cristo non fatevi ingannare dal diavolo dalla bestia dall'anticristo dal materialismo dal Dio del denaro un falso Dio che il Signore sgridi tu devi aggrapparti a Gesù fare di Gesù Cristo il tuo tesoro la tua ricchezza deve essere la conoscenza di Dio il tuo vivere il Signore amén guardate cosa dice ancora dei giudizi Ezechiele 7 20 guardate cosa parla la bellezza dei loro ornamenti era per loro fonte di orgoglio e ne hanno fatto delle immagini delle loro abominazioni delle loro divinità esecrande perciò io farò in modo che siano per essi una cosa immonda vedete la bellezza dei loro ornamenti ci sono persone che pensano solo alla bellezza a essere belli a essere alla moda con ornamenti con loro gioielli tutto sarà immondizia le immagini dei loro idoli perché sapete oggi fatemelo dire fratelli oggi nelle grandi città d'Italia e del mondo ma anche nelle piccole città nei paesini pure ci sono immagini di idolatria della bellezza dell'ego della carnalità della vanità basta vedere quei grandi poster che mettono nelle strade di pubblicità dove ci sono donne che ostentano la loro bellezza fanno pubblicità alle mode agli stilisti indemoniati fanno grandi poster di pubblicità di orologi di russo di lusso di cose terrene vanità tutto è vanità non serve a niente la bellezza dei loro ornamenti che era la loro fonte di orgoglio sarà distrutta non pensare alla bellezza oggi ho detto fratelli sembrano immagini di idolatria tutte quelle donne nei poster povere donne anche uomini nudi nelle strade mettono i poster delle pubblicità pubblicità sataniche dove ci sono messaggi subliminali guardate bene aprite gli occhi quei poster giganti delle pubblicità ci hanno tutte cose inerenti al diavolo al peccato all'anticristo alla bestia apriamo gli occhi fratelli il mondo giace sotto il potere del maligno che Gesù Cristo lo sgrida dove le donne si mettono seminude con i gioielli con pose sensuali fanno una pubblicità degli occhiali e la mettono nuda alla donna cosa c'entra? c'è satanale che Dio abbia pietato di questo mondo non facciamoci trascinare messaggi subliminali negli angoli delle strade verso 21 abbandonerò tutto come preda in mano agli stranieri vedete abbandonerò tutto in preda in mano agli stranieri come bottino in mano agli empi della terra che lo profaneranno che Dio abbia pietà allontanerò la mia faccia da loro ha scritto un fratello che si chiama Francesco Butera ha scritto fratello Stefano ma anche nelle chiese sono così purtroppo sì la maggior parte stanno camminando così come quelli del mondo ma anzi peggio perché loro dicono che conoscono Gesù e sono peggio di quelli del mondo e l'ira di Dio verrà anche su di loro ecco perché noi dobbiamo amare la volontà di Dio la parola di Dio la verità la santificazione consacrarci veramente non essere solo dei chiaccheroni con la bocca sì Gesù 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 e poi vai a peccare vai come i mondani sei vanitosa ti metti le maglie scollate vestite attilati ti piace mostrare un po' qui qualcosina che Dio sgridia il diavolo sei un mondano ascolti la musica del mondo balli bevi alcol e tutte quelle cose che offendono Dio così non puoi andare in cielo allora se il tuo cosiddetto pastore non so di quale chiesa sia PDG sia ADI qualsiasi libera o non libera quello che sia non ti dice questo ti voglio dire te lo dico io nel nome di Gesù per la gloria del mio Signore te lo diciamo qui alleluia consacrati cara anima consacrati sorella fratello in Cristo perché il giorno viene alleluia buttati a terra con la faccia a terra piangi davanti ai piedi dell'Eterno e lui ti libererà dalle catene del diavolo del mondo della fornicazione masturbazione pornografia ci sono addirittura anche pastori che cadono nella pornografia chattano con le donne una volta un caro fratello me l'ha raccontato sapete che Dio abbia petà che un pastore di una certa organizzazione peccava con una sorella della chiesa e lui continuava a predicare il furbetto che Dio possa avere pietà io sono il servo di Dio e poi peccava con una ragazza della chiesa sotto le scale che Dio sgridi al diavolo nel nome di Gesù fuori Satana questi sono lupi rapaci sono giorni pericolosi sorelle state attente non chattate con chiunque fratello stai attento alleluia amén vigila veglia abbi gli occhi come un'aquila le aquile hanno un occhio amén acuto profondo che vede da lontano alleluia stiamo attenti perché il diavolo si usa a volte di donne carnali o di uomini carnali che il Signore sgridi e butti giù queste maschere dice la Bibbia chi proferisce menzogne non abiterà nella mia casa hai mai letto questo verso alleluia te lo predicano lì dove vai tu nella comunità o quelle chiese sono diventate ormai dei cinema dei club sociali dove ballano il merengue e il cha-cha-cha è tempo alleluia che ci siano uomini che suonino la tromba dell'Eterno che tirino fuori la spada per spezzare le catene per dire il Signore ritorna amén il Signore arriva il Signore Gesù è alle porte amén quanti dicono alleluia no oggi ci sono pastorucci che battezzano persone che convivono battezzano quelli che fornicano battezzano quelli che fumano battezzano gente mondana che non è nata di nuovo Dio ha mi pietà padre ha mi pietà questa è l'eresia degli ultimi tempi l'apostasia la mondanità ma c'è ancora un residuo alleluia che piega le ginocchia solo davanti al Signore della gloria Gesù Cristo e alla sana dottrina amén gloria a Dio gloria a Dio amén alleluia è la verità fratelli noi dobbiamo vivere una vita consacrata una vita santificata una vita ripiena dello Spirito Santo una vita nel timore del Signore oggi tanti presunti o cosiddetti predicatori non vi dicono queste cose vi dicono tutto va bene non succederà niente Dio ti vuole prosperare Dio ti vuole benedire non è così fratello io ti dico invece nel nome di Gesù che il Dio ti vuole santificare il Dio ti vuole liberare dal peccato dalla carnalità il Dio ti vuole consacrare alleluia oh gloria a Dio amen alleluia benedetto il tuo nome Signore innalzati Gesù per la tua gloria siamo qui al tuo servizio amen scegliete oggi da che parte volete stare diceva il profeta Elia scegliete oggi perché non dovete barcollare tra due lati e un altro servo del Signore ebbe a dire quanto a me e alla mia casa serviremo l'eterno quanti lo possono dire ancora oggi come dice Paolo oppure per lo spirito di Dio per me il vivere è Cristo e il morire guadagna amen voi pensate che Paolo sarebbe andato a fare la coda per farsi bucare il braccio io penso proprio di no fratelli e sorelle quanti dicono amen è inutile girare intorno all'argomento tu pensi che Paolo l'apostolo servo di Gesù Cristo sarebbe lì andato a far fatemi il buco qui si qua ah ma saia no erano servi di Yahweh servi di Gesù Cristo e servi dello Spirito Santo che è un solo vero Dio amen quanti danno gloria al Signore amen alleluia alleluia anzi Paolo diceva per lo spirito del Signore io sono stretto da due lati una parte di me vuole rimanere qui a predicare ma un'altra parte io vorrei già andare con Cristo amén vorrei lasciare il corpo lasciare questa terra andare con Gesù amén alleluia oh gloria questi erano uomini di un certo stampo dove sono oggi alleluia oggi i predicatori sono al mare lì nella sedia sdraio anche con il cocktail a fare a farsi il drink che Dio ti liberi uomo tu non sai cosa stai facendo ravvediti cerca l'eterno cerca Gesù cerca lo spirito santo amén e qui ti parla per la grazia di Dio un uomo che prima era morto io ero morto non avevo vita ero un morto che camminavo ora parlo la verità gloria a Dio e non ho legami compromessi con nessuno alleluia gloria a Cristo ma solo con il re della gloria benedetto e amo i fratelli li amo amo le sorelle in Cristo amo la chiesa nell'amore di Dio ma la verità la dobbiamo dire quanti dicono alleluia amén gloria a Gesù vogliamo finire di leggere questo capitolo alleluia verso 23 dice prepara le catene poiché questo paese è pieno di assassini vedete doveva venire una cattività una schiavitù una prigionia sui ribelli dovevano andare in Babilonia in schiavitù per colpa dei loro peccati Dio lo permise era un castigo perciò noi dobbiamo essere ubbidienti fratelli ripeto essere ubbidienti a Gesù Cristo nostro grande Signore Dio e Salvatore e ubbidirli ma è Lui che ci dà la forza non ti devi preoccupare è Lui che ti dà la forza tu solamente cercalo dipendi da Lui con umiltà dedicali la tua vita e Lui ti riempirà di potenza per operare il bene quanti dicono amèn e gloria a Gesù Cristo operare il bene secondo il suo volere e siate facitori della parola e non solo uditori ingannando voi stessi dice Giacomo uno siate facitori vale anche per me io devo essere facitore non solo predicatore che predico poi me ne vado a peccare chissà dove no devo essere facitore una persona che fa che opera che vive la parola del Signore nostro Gesù Cristo al quale appartiene tutta la gloria in eterno vogliamo finire qui questa città è piena di violenza diceva il Signore Gerusalemme era diventata piena di violenza come nella storia del buon samaritano vi ricordate c'era un uomo moribondo che era stato preso dai ladroni dove? in Israele lo avevano picchiato maltrattato era sanguinante e lì passò chi passò? il sacerdote lo guardò non fece niente ma vabbè io devo andare al Tempio il Levita no io ho il mio lavoro lì nel Tempio passò un dottore della legge no no io non mi posso sporcare io sono un dottore della legge ma passò amen alleluia Signore dacci grazie gloria a Gesù Signore passò il buon samaritano e si fermò ebbe compassione e sicuramente pregò Dio mio abbi pietà di questo uomo che è a terra moribondo e si inchinò lì lo aiutò lo fasciò lo amen li versò l'olio lo portò poi in un albergo a riposare si prese cura di lui alleluia Signore aiutaci a essere come il buon samaritano e quel buon samaritano è una figura di Gesù quello che ha fatto per noi fratelli noi eravamo quel moribondo io ero un moribondo prima ero pieno di piaghe di ferite di dolori non volevo più vivere ma Cristo mi liberò Signore ti adoro Signore halleluia halleluia andiamo avanti per finire fratelli Ezechiele 7 24 io farò venire le più malvagie delle nazioni che si impadroniranno delle loro case farò venire meno la superbia dei potenti e i loro santuari saranno profanati vedete una rovina sul popolo ribelle viene la rovina essi cercheranno la pace ma non la troveranno sarà troppo tardi questo diceva Dio allora ma questo vale anche per i tempi della fine per i popoli ribelli Signore dacci grazia di andare avanti con l'ubidienza Gesù nelle tue vie verrà sventura dopo sventura allarme dopo allarme chiederanno visioni ai profeti ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge agli anziani il consiglio non ci sarà più parola di Dio non ci saranno più veri servi di Dio perché la chiesa verrà rapita cercheranno profezie consigli non ci sarà più verrà una fame sul paese ma non di pane ma della parola di Dio correranno di qua e di là e non la troveranno perché il Signore si allontanerà da loro e sarà terribile quello che verrà fratelli e sorelle perciò aggrappiamoci 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 gloria a Gesù aggrappiamoci sempre più al nostro Signore Gesù Cristo amén il re sarà in lutto il principe rivestito di desolazione le mani del popolo del paese tremeranno di spavento io li tratterò secondo la loro condotta li giudicherò secondo quanto meritano e conosceranno che io sono il Signore l'Eterno ma purtroppo sarà tardi per loro è adesso che tu devi conoscere che Lui è il Signore è adesso che ti devi umiliare è adesso che dobbiamo arrenderci a Gesù Cristo e al suo santo volere quanti vogliono consacrarsi possono dire amén vogliamo inalzare una preghiera di ringraziamento che questa parola lavori nei nostri cuori perché viene da Dio fratelli io vi dico in verità che questi messaggi vengono dal cielo io non li preparo io sono un uomo io sono polvere io sono nulla queste parole vengono dal Signore per la gloria del Signore nostro Dio Gesù Cristo gloria allo Spirito Santo amén a Dio la gloria padre ti ringrazio ancora in questo momento che tu ci hai concesso padre celeste di condividere il tuo messaggio padre non con parole di conoscenza umana ma con parole che vengono dallo Spirito Santo Signore con la verità con la parola Tua Signore ti prego intervieni ancora in ogni cuore illumina ancora ogni cuore Signore spezza le catene nel nome di Gesù Cristo libera i prigionieri fai sì che tanti per la tua gloria vengano risvegliati da questi messaggi o della verità della tua parola Gesù che tanti vengano Signore al ravvedimento che tanti vengano i tuoi piedi che tanti Signore si arrendano nuovamente a te Signore che tornino indietro dalle loro vie malvace e si umilino e preghino e si consacrino al Cristo della gloria al Figlio di Dio a te Signore eterno e il Shaddai ti preghiamo verso l'unzione come dice la tua parola che tu verserai del tuo spirito sopra ogni carne sui tuoi servi le tue serve ti preghiamo fai un'opera potente Signore noi siamo qui ai tuoi piedi al trono della grazia rinnova Signore il tuo popolo rinnova la tua chiesa rinnova la fede nel nome di Gesù Cristo facci essere soldati dell'Evangelo di Cristo vogliamo rivestire la completa armatura di Dio mandaci dove tu vuoi a proclamare Cristo la salvezza e l'Evangelo della potenza tua Signore opera per la tua gloria converti a te quei cuori che sono lontani quando ascoltano la parola anche quelli che si sono deviati che si sono raffredati Signore abbine pietà Padre e che ogni occhio guardi solo a te che ogni cuore si aggrappi solo a te e che tutti ti diano la gloria solo a te oh re dei re Signore ti amo grazie perché tu sei il rama l'unico fondamento la roccia eterna la pietra Signore d'angolo Signore tu sei il fondamento che è stato posto nessuno può porre altro fondamento oltre a questo che è Gesù Cristo Signore ti amo ti ringrazio che il tuo Spirito Santo continui a parlare nei cuori anche dopo che finiremo ma che sia il tuo Spirito Santo a parlare a istruire a ministrare a rinnovare ogni cuore per la tua divina gloria Signore ti adoro grazie che mi hai guidato ancora in questa parola Padre in questa riflessione biblica in questa riunione spirituale Padre nel nome di Gesù grazie per il tuo Santo Spirito continua Signore ci umiliamo a te che sei il grande pastore l'alfa e l'omega il primo l'ultimo il principio e la fine Gesù ti adoro sei la mia vittoria sei la mia gloria sei la mia luce la mia salvezza il mio tesoro Signore e di tutto il tuo popolo facci saltare di gioia nella tua presenza alleluia in onda di Spirito Santo tutti i fratelli e sorelle nel potente nome di Gesù Cristo il benedetto in eterno amén alleluia 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 Spirito Santo grazie o gloria a Cristo a Cristo sia tutta la gloria l'onore e la lode in eterno amén alleluia 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 Dio Dio benedetto Dio benedetto tutti quanti che avete partecipato avete ascoltato avete glorificato il Signore amén che la parola vi riempia lo Spirito Santo amén Dio benedetto saluto tutti quanti amén mi ha domandato un fratello Dio vi benedica fratello Stefano quando vieni a Palermo piacendo al Signore presto verremo in quelle zone per la gloria del Signore amén intanto saluto tutti i fratelli e le sorelle in Italia del sud del nord nelle isole amén e i fratelli e le sorelle in Cristo alleluia che sono lì in Belgio in Germania in Svizzera in Francia alleluia ovunque vi troviate gloria al Signore per la gloria di Dio siate benedetti dal Signore amén che ha fatto alleluia il cielo e la terra oh Signore grande e meraviglioso amén vi saluto nel grande amore di Gesù salutiamo tutti voi che vedo che state commentando Sonia da Varese la sorella Anna Costa dalla provincia di Messina Anna Pugliese la sorella da Napoli sorella Laura dal Belgio la sorella Elena Caraviello da Monza eccetera eccetera siete tanti gloria a Dio più quelli che ascolteranno dopo per la gloria del Signore il fratello Salvatore Misia da Bagheria la sua moglie la famiglia fratello Giovanni Tagliamonte da Caserta dalla provincia di Caserta o di Napoli gloria a Dio tutti voi fratelli cari Rosanna Bevilacqua sorella Anastasia dalla Puglia Michi Ascione Sami Bastini tutti quanti siate benedetti dall'Eterno la sorella di Bernardo Rosetta Amen e tutti i fratelli e le sorelle in Cristo dovunque vi troviate alleluia gloria al Signore la sorella Maria Basile da Pozzuoli Amen Gloria a Gesù Rosa Cannizzo Battaglia salutiamo gloria a Dio tutti voi fratelli io non riesco a vedere tutti i nomi o i commenti o i saluti non li riesco a vedere però salutiamo quelli che riusciamo Maddalena a Dante Amen Laszlo Iosif Gloria a Cristo e via scorrendo la sorella Arianna da Palermo Dio vi benedica tutti quanti siate forti nel Signore e riteniamo la parola la dottrina l'insegnamento del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo come il Signore disse se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli Signore gloria al tuo nome Amen Benedetto è il nome di Gesù salutiamo anche Sgueglia Ferdinando Signore ti fortifichi dalla Germania Amen Simulescu Marian salutiamo pure Raffaella Raff salutiamo tutti voi nell'amore di Gesù Cristo il Benedetto in eterno unico salvatore unico buon pastore unico re dei re vero Dio quanti lo credono Cristo Gesù Amen dice la Bibbia l'immagine dell'invisibile Dio il primogenito di ogni creatura perché in lui sono state create tutte le cose quelle visibili e invisibili Cristo è la vita è la fonte della vita ed è la vita eterna alleluia gloria a Dio pace cari vi saluto nell'amore grande di Gesù Cristo purifica ancora signori nostri cuori siamo nelle tue mani amén la sorella Anna Pugliese ha domandato fratello Stefano domani la live ci sarà solo alle 21 con i versetti biblici cara sorella se Dio vorrà saremo in diretta con la lettura biblica alle 14 30 e poi anche alle 21 circa con un versetto biblico da condividere uno per uno cioè ognuno condividerà un versetto che Dio gli mette in cuore che il Signore gli mette in cuore cercheremo di essere in diretta sia alle 14 30 che sia alle 21 se Dio vorrà amén col suo aiuto amén io vi saluto carissimi nell'amore di Cristo vi saluto nel glorioso amore di Gesù nella pace e nella benedizione del Signore pace di Cristo a tutti voi per la gloria del Signore grazie Gesù alleluia alleluia alleluia